C'è un altro argomento di conversazione Altro argomento di conversazione E dici sempre che fra noi qualcosa è rimasto Io dico che cosa è rimasto Mi dici forse tutto Cerca un altro argomento di conversazione Ad è sempre tanto facile di cambiare il mondo come vuoi Di cambiare come pari a te i pensieri della gente Ma per me non è così È inutile parlare ancora di tutte queste cose Se proprio si dovrà parlare facciamo come dico Io cerco un altro argomento di conversazione Altro argomento di conversazione